buongiorno sono gabriele zanardi benvenuti a questo webinar oggi vi parlerò di metodologie innovative e strumenti efficaci per una valutazione formativa personalizzata ovvero cercherò di illustrarvi il prodotto cognitivamente che abbiamo preparato come mezzo innovativo per poter dare all'insegnante all'alunno tutto un processo di didattica facile integrata e valutativa con uno spettro innovativo che cercherò di presentarvi infatti in questa parte del webinar che durerà circa tre quarti d'ora vi illustrerò l'argomento attraverso delle diapositive vi do qualche informazione anche dal punto di vista tecnico che alla fine della presentazione potrete inserire commenti e domande nell'apposito spazio sulla destra del vostro schermo alla fine del webinar cercherò di dare risposte ad alcune delle vostre indicazioni leggerò le domande quindi cercherò di dare possibilmente delle risposte esaustive vi ricordo che la registrazione di questo webinar e le slide saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito di mondadori education gli attestati di partecipazione vi arriveranno invece via mail generalmente entro circa una settimana dopo queste precisazioni possiamo passare direttamente alla presentazione di queste diapositive che avranno una possibilità di seguire il flusso di idee di suggerimenti e anche di valutazioni che in questi anni abbiamo raccolto sia dagli aspetti formativi ma soprattutto dal confronto con i docenti e che ci hanno portato alla realizzazione di questo nuovo prodotto partiamo da questa immagine che credo sia estremamente esaustiva quello che osservate è un'attività cerebrale di un soggetto che messo in una particolare condizione di ricerca viene valutato mentre acquisisce delle informazioni che cosa potete vedere potete vedere che l'architettura del cervello si distribuisce attraverso due elementi un elemento di fibra grigia che sono le nostre cortecce associative ovvero quella parte del cervello che lavora le informazioni se notate ci sono dei lampi rossi soprattutto in queste zone che sono deputate alla capacità decisionale ma anche la comprensione del materiale linguistico vorrei farvi prestare attenzione anche su queste fibre arancioni gialline che presentano le cosiddette fibre bianche ovvero quegli elementi cerebrali che permettono il passaggio di informazioni tra una parte e l'altra del cervello perché questa diapositiva la ritengo fondamentale per poter capire l'elaborato perché il nostro cervello è una supersintesi di informazioni ovvero per acquisire delle nuove capacità per stimolare le proprie abilità e per riuscire ad arricchire il proprio comportamento anche con formazioni di tipo strategico inevitabilmente noi dobbiamo permettere al nostro cervello di acquisire di costruire delle reti cosiddette associative cioè delle reti che permettono di mettere in comunicazione molto velocemente non solo dati ma anche capacità di sintesi dei dati perché perché questo viene riprodotto notoriamente in una visione evolutiva di tutti noi ovvero lo stadio embrionale che porta alla nostra nascita si configura fino a una determinata posizione c'è il momento in cui nasciamo con un rapporto intrauterino nel quale la relazione tra noi e la madre è identificata banalmente dal cordone umbilicale che svolge tutte le funzioni all'atto della nascita noi immediatamente entriamo in contatto con un mondo esterno dal quale acquisiamo informazioni che diventano poi competenze e queste competenze portano a far crescere non solo la nostra conoscenza dell'ambiente ma noi stessi come individui come entità ma anche come strategie e se notate in questa diapositiva che fa vedere lo sviluppo corticale tra maschi e femmine c'è una particolare rilevanza per il cosiddetto periodo scolastico cioè da circa cinque anni fino ai 25 anni c'è una maturazione di aree corticale specifiche come la corteccia prefrontale che serve per il decision making quindi per la capacità di prendere decisioni perché questo è molto interessante perché quando noi andiamo analizzare che cosa succede nella proliferazione delle reti neurali le metri renali crescono se stimolate ovvero il nostro cervello costruisce delle reti e queste reti vengono definite dall'esperienza che noi abbiamo col mondo esterno dall'acquisizione di informazioni dal depositare quelle informazioni incostrutti che poi sono facilmente utilizzabili e è molto carina questa immagine che fa vedere il pensiero cioè il thinking cap ovvero la capacità di tutti noi di pensare di riflettere su ciò che è avvenuto su ciò che potremmo fare su quello che è stato fatto e come migliorare il nostro comportamento se osservate tutti questi argomenti fanno chiaramente riferimento all'acquisizione didattica ovvero nell'apprendere delle specifiche competenze del poi usare durante tutta la nostra storia come studenti in tutte le fasce di cronologia crescente e perché dobbiamo parlare di questo tipo di informazioni perché è la neurobiologia ci insegna che cosa vuol dire apprendere questo è un bellissimo esperimento fatto sui ratti che si chiama watermaid test vedete in questa prima situazione il ratto viene messo all'interno di questa piscinetta c'è un cilindro di plexiglass quindi trasparente a filo dell'acqua che il rato non può vedere il ratto nuota in una maniera random a un certo punto trova il cilindro e vi si appoggia per evitare di annegare tolto da questa condizione passata una giornata reinserito nella piscinetta vedete che il rato va direttamente sul cilindro ovvero non nuota più in una maniera non logica come nella giornata precedente perché ha acquisito l'informazione che all'interno di quella piscina c'è qualcosa che gli permette di stare molto più comodo rispetto a continuare a nuotare questo non è semplicemente apprendimento comportamentale ma si decodifica guardate qui nella costruzione di veri e propri bottoni sinaptici ovvero quegli elementi che caratterizzano i nostri neuroni che rendono i nostri neuroni patrimonio della nostra esperienza qui vedete il neurone prima dell'apprendimento e qui lo vedete dopo l'apprendimento notate queste due protuberanze che sono delle spine dendritiche che sono l'associazione di quello che il nostro soggetto sperimentale ha vissuto quindi che cosa pensare pensare che l'apprendimento scolastico è una fase esperienziale che tocca i nostri alunni ma non solo tocca loro tocca tutte le strutture cognitive e neurologiche comportamentali ma anche ambientali che permettono un apprendimento efficace per efficace noi intendiamo il fatto che il l'essere umano è un animale adattivo ovvero deve prendere delle informazioni dal proprio ambiente e renderle utili e funzionali al fatto che questo ambiente sia il migliore la qualità della vita che cosa vuol dire allora avere un apprendimento significativo da un punto di vista scolastico e didattico beh sicuramente andare ad osservare quali sono quei processi che vengono definiti attivi ovvero quegli aspetti cognitivi che l'alunno mette in campo per acquisire quelle informazioni che venivano che vengono considerate dei veri propri input come notate abbiamo degli elementi cognitivi che sono tipici dell'acquisizione didattica cioè l'attenzione quanto rimango quanto riesco a rimanere attento alle informazioni che mi vengono date la memoria di lavoro ovvero come posso sedimentare le informazioni in un processo che mi permette di decodificarle e di metterle nei giusti cassetti e poi vedremo in che senso e la velocità di elaborazione ovvero quanto riesco a macinare per unità didattica questi elementi di processi attivi di input poi permettono di costruire quel materiale che rientra nei cosiddette funzioni superiori c'è il ragionamento ad esempio analogico astratto ovvero astrarre da determinato contesto determinate funzionalità che poi mi permettono di ricostruire un senso logico la memoria a lungo termine e anche prestare decisioni perché quello che è nuovo deve essere acquisito in una modalità diversa rispetto a ciò che ormai è conosciuto e ciò che è conosciuto ha già una sua allocazione all'interno del nostro cassetto perché è importante capire e comprendere come questo schedario nella sua complessità rappresenta le nostre capacità scolastiche perché ovviamente l'output che a noi interessa è tutto ciò che ricade nell'acquisizione di competenze didattiche la scrittura il disegno l'eloquio ma anche ad esempio l'ortografia questo modello che è noto ci dice come l'apprendimento deve essere efficace per essere efficace ci sono degli elementi che diventano funzionanti a questo tipo di apprendimento efficace quali sono il fatto di riuscire a aiutare i nostri alunni a capire come apprendono e come lo fanno la cosiddetta meta cognizione un processo di riflessione cioè valutare quale strategia stanno usando la sottolineatura la rilettura d'alta voce o raccontare a un proprio compagno che cosa appena detto l'insegnante possa essere efficace oppure no per il mio processo di decodifica un approccio multiplo ovvero valutare quali situazioni sono più o meno efficace rispetto al contesto a volte l'iconografia può essere più o meno efficace o piuttosto il processo verbale ma soprattutto agire consapevolmente che cosa vuol dire utilizzare ciò che noi abbiamo acquisito per costruire una sorta di mind map che ci permette di scegliere cosa fare e quando farlo attraverso che cosa beh porsi delle domande porsi delle domande vuol dire osservare delle situazioni ma viveva anche da un punto di vista esperienziale per poter decodificare strategie costruire quindi delle ipotesi e in base a queste ipotesi costruire delle procedure dei processi ovviamente quando mostro questo tipo di diapositiva sembra quasi di amplificare la complessità del sistema ma in realtà se voi ci pensate questo è quello che facciamo tutti noi quotidianamente nella vita di tutti i giorni come andare a fare la spesa o decidere quale capo di abbigliamento indossare in base alla situazione ci sono degli le dei giochini degli esperimenti che rendono ancora più divertente questo tipo di analisi guardate questo tipo di esempio e provate a rispondere alla domanda del box qual è l'immagine migliore per poter completare il box nella sua parte mancante per scegliere quali dei cinque quadranti è corretto nel posizionare in questa area il punto di domanda inevitabilmente noi dobbiamo dedurre delle informazioni da qualcosa che non conosciamo a priori non sono informazioni già decodificate non l'abbiamo mai visto e quindi che cosa dobbiamo fare beh osservare e dedurre delle informazioni preziosi con una loro orologica ad esempio questo quadrato è stato ruotato di una porzione e se vedete i colori hanno una rotazione che segue un andamento orario quindi potremmo dedurre che la logica che sta dietro a questa serie è una rotazione di un quadrante in senso orario quindi andiamo a vedere in questa situazione se capita la stessa cosa c'è una rotazione adeguata rispetto a questi due quadranti ma questo invece che cosa fa contrariamente ruota in senso anti orario quindi da questo diagramma deduciamo che non c'è una sola semplice chiave di lettura per risolvere il problema ma ce ne sono multiple e quindi analizzare l'insieme di questo contesto ci permetterà di eseguire di individuare quale delle cinque è poi il risultato corretto che ovviamente non vi dico altrimenti vi tolgo il piacere di risolvere il gioco i nostri alunni sono quotidianamente all'interno di questo sistema cioè cercano di sfruttare le proprie abilità per arrivare alla soluzione di problemi che sono gli apprendimenti di tipo didattico e anche qui dobbiamo fare una nuova riflessione che abbiamo definito tra old style e new style perché perché nel vecchio sistema di valutazione delle abilità l'abilità non è altro che il risultato di conoscenze ovvero io do una conoscenza questa conoscenza diventa l'abilità acquisita dal mio soggetto che viene tradotta in una competenza perché la conoscenza e l'abilità insieme mi permetto di dire che io quel tipo di funzionalità competente e quindi sono capace di fare determinate cose che cosa succede perché questo è un old style perché in realtà non è così non è così nel senso che i bisogni educativi speciali poi i disordini specifici dell'apprendimento i disturbi specifici dell'apprendimento prima ci hanno insegnato che in realtà i nostri alunni hanno abilità diverse e che non è detto che queste abilità si esprimano esattamente in questa cascata di sequenza che è quasi preordinata e quindi il modello deve diventare così ovvero partiamo dal concetto che tutti noi possediamo delle abilità e queste abilità determinano sia competenze come so fare come posso fare ma anche delle potenzialità ovvero sono capace di fare alcune cose altre no e l'insieme quindi la valutazione individuale delle mie abilità di che cosa so fare come lo posso fare cosa potrei essere capace di fare definisce la conoscenza che io ho di me e quindi la possibilità che questo sistema non sia lineare come in questa vecchia visione ma che diventi circolare quindi una fase di accrescimento di valutazione che porta inevitabilmente a migliorarci questo sistema non può non far valutare quindi un nuovo sistema integrato dell'acquisizione delle capacità didattiche perché nella nostra rivalutazione dobbiamo identificare che cosa che ci sono degli elementi funzionali che servono ad acquisire ciò che noi siamo come studenti ovvero delle capacità percettive in particolar modo visto udito sono i due canali percettivi prioritari all'interno di un sistema didattico e queste funzioni percettive devono portare informazione all'interno della nostra elaborazione centrale il nostro cervello che deve definire ciò che è cognitivo la capacità di risolvere i problemi la capacità di relazionarci con gli altri che vuol dire col mondo con i pari con l'insegnante la capacità di produrre ideazioni cioè avere il cosiddetto insight e intuire quello che può essere una soluzione pensate ai box che prima vi ho fatto vedere e questa ideazione costruire la generalizzazione ovvero ho imparato questa strategia in questo ambiente la chissà in quali altri ambienti la posso usare come usare e questi due elementi cioè funzioni percettive funzioni cognitive non fanno altro che poi definire le funzioni didattiche che passano attraverso delle funzioni se volete più strumentali come la lettura e la scrittura ma soprattutto per elementi che caratterizzano meglio il curriculum studiorum dei nostri alunni ovvero la capacità di evolvere come concetto come profondità di analisi e costruire associazioni se tutto questo può sembrare molto teorico da un certo punto di vista in realtà ha una sua ricaduta ed ecco la ricaduta che molto spesso ci mette in grossa difficoltà quando ci viene chiesto di fare una valutazione è ovvio e credo che tutti voi condividiate che il voto rimane uno strumento importante nella valutazione didattica ma è uno strumento non è la valutazione complessiva in sé la valutazione anche quella che ci viene chiesta dalla normativa in relazione dei best deve fare una valutazione molto più ampia e quindi riuscire a valutare rispetto al vecchio processo non solo conoscenze abilità competenze capacità ma farci delle domande rispetto alla prestazione che il nostro alunno produce ovvero quali conoscenze io docente ho valutato quale abilità sono stato in grado di stimolare di produrre lui è in grado di esprimere delle competenze se si quali capacità esprime perché attraverso questo tipo di domande noi riusciamo a individuare quelli che poi vengono definiti stili cognitivi ovvero le modalità attraverso le quali ognuno dei nostri alunni riesce a offrire soluzioni a problematiche oppure anche manifestare delle difficoltà come ad esempio noi riscontriamo nei bisogni educativi speciali da qui nasce l'idea di costruire un nuovo strumento quindi di costruire potenzialmente un testo che sappia accompagnare contemporaneamente l'alunno in un processo di acquisizione che tenga conto di tutti gli elementi che ho cercato in questo momento di farvi presente di dimostrarvi ma anche attraverso una guida che aiuti l'insegnante a trovare degli strumenti applicativi facile da utilizzare non ripetitivi che permettono anche di realizzare quella parte di valutazione così difficile e così complessa quindi ora cercherò di spiegarvi cognitivamente che cos'è come si rapporta nei confronti dello sviluppo didattico e quali tipi di strategie di modelli siamo riusciti a inserire in questo testo proprio per sviluppare tutte quelle aree cognitive che precedentemente vi ho mostrato sicuramente cognitivamente si deve definire come un testo che vuole proporre un sistema che ritroviamo come innovativo finalizzato a che cosa allo sviluppo e la valutazione delle competenze cognitive innovativo perché ogni pagina ogni elemento didattico inserito ha avuto una sua valutazione una sorta di metacognizione nella costruzione del testo che legasse aspetti fondamentali non solo e non tanto nell'acquisizione di singoli elementi come potrebbero essere le tabelline o le lettere o le sillabe ma costruire un processo cognitivo per far emergere le competenze cognitive che gli alunni possono presentare insieme abbiamo cercato di fondere non solo le conoscenze ma anche l'abilità ovvero cercare di dare materiale in una maniera così eterogenea per poter vedere come i nostri ragazzi possano svolgere compiti simili ma che richiedono delle abilità diverse e quindi difentare uno strumento efficace nella stimolazione nel consolidamento delle competenze cognitive ovvero non solo andare a ricercare qual è la metodologia favorevole al nostro soggetto ma da un lato rinforzare quel tipo di manifestazione cognitiva e abilità che il soggetto esprime ma anche permettergli di diversificarla per aumentare il proprio livello di competenza e come abbiamo pensato di farlo sicuramente cognitivamente rappresenta un quaderno che offre pagine di esercitazione sia sviluppati e matematica sia sviluppati in italiano per prima seconda e terza primaria collegate ai volumi della chiappa storie qui potete vedere come l'indice presenti quello che viene esplorato all'interno del testo e come ad ognuna di queste pagine poi corrisponda una impaginazione un materiale didattico che ha tutta una strategia che cercherò adesso di mostrarvi questa strategia abbiamo pensato di definire la testo narrante ovvero un testo che presenta una struttura che permetta di indicare due tipi di narrazioni una metodologia verticale ovvero all'interno di ogni pagina abbiamo un'organizzazione per livelli che descrive un gradiente di complessità rispetto all'argomento trattato ovvero i quattro livelli che poi vedrete essere identificati da delle barrette tipo segnale del nostro cellulare permettono di vedere come il primo esercizio rappresenti quel tipo di indagine più semplice più facile potremmo definirla anzi la definiremo meglio come per il requisito sull'argomento didattico trattato ma anche che rappresenta una stimolazione ripetuta attraverso le altre pagine cioè attraverso una metodologia orizzontale che cosa vuol dire vuol dire che tra le pagine vi è una corrispondenza non solo tra livelli ma anche tra richiami di tipo viso percettivo cioè le costruzioni delle pagine danno e noi l'abbiamo definito espressamente così un elemento di ridondanza ci si riorienta molto velocemente all'interno delle pagine perché percettivamente esistono dei queuing dei suggerimenti colorimetrici e funzionali che immediatamente permettono all'insegnante anche all'alunno di dire ecco in questa pagina stiamo esplorando questo tipo di livello questo tipo di livello rappresenta nella scheletratura un livello iniziale intermedio finale in questo modo il testo che cosa fa cerca di accompagnare in un percorso di acquisizione potenziamento la ridondanza informazioni le strategie permettono di avere un garantito livello di comprensione e soprattutto la possibilità di valutazione andando ad esplorare stili cognitivi e didattici diversi quello che a noi premeva in particolar modo con la strutturazione di questo testo è la generalizzazione della stimolazione che cosa vuol dire è fondamentale che il nostro alunno diventi consapevole di quegli elementi che hanno costituito una facilitazione rispetto all'apprendimento perché e ce lo insegna la neurobiologia più volte noi ripercorriamo un determinato sentiero più quel sentiero diventa un'abitudine quindi un rinforzo quindi una stabilizzazione del nostro percorso di acquisizione delle informazioni pensate la prima volta che avete guidato un'automobile eravate sicuramente molto tesi mani 10 10 freccia sinistra specchietto ora l'avete fatto talmente tante volte che guidare l'automobile non richiede più così tanta attenzione immaginate allora il cervello dei nostri alunni come se fosse un armadio con tutta una strumentazione sofisticata che in parte hanno già come proprio patrimonio in parte deve essere stimolata e acquisita nel processo didattico e allora spetta il compito anche attraverso la frustrazione anche attraverso l'errore non valutato più come qualcosa di punitivo ma come un elemento di comprensione che quella strategia non funziona del codificare quali elementi quali strumenti migliori utilizzare per essere vincenti ed ecco allora che i quattro livelli che abbiamo inserito in questa presentazione verticale ci identificano quattro livelli di difficoltà osservate come il primo livello parla di prerequisiti che vengono definiti didattici e cognitivi in questo esempio parliamo della lettera m e ovviamente il prerequisito didattico è quello di riconoscere la lettera come elemento definente un termine un'immagine e invece dal punto di vista cognitivo potrebbe pensare a una caratteristica viso percettiva cioè riconoscere che questo segno grafico si definisce m perché l'acquisizione non è biologica ma è in fase di apprendimento e diversificarlo rispetto dei distruttori e poi parleremo anche di distruttori forti e distruttori deboli ovvero la rotazione dello stesso elemento in una posizione di spazio completamente diversa perché questi sono i due prerequisiti perché se noi non riusciamo a riconoscere che questo simbolo si identifica con la parola m con la lettera m sarà difficile poi svolgere tutto il resto del della pagina ovvero dove l'offerta didattica presenta soluzioni pluristrumentali cioè viene chiesto di utilizzare visioni testuali oppure iconografico oppure di completamento fino a giungere al quarto livello ovvero al vero e proprio esercizio che deve valutare come l'acquisizione della lettera m possa essere così assodata e stabile da poter permettere l'esecuzione di un compito sicuramente molto più strutturato e complicato rispetto a quello che viene proposto a livello 1 come potete intuire all'interno di una pagina abbiamo già la posizione di elementi che ci possono caratterizzare la prestazione del soggetto è un conto compiere degli errori a questo livello ma eseguire perfettamente gli altri livelli perché questo potrebbe rappresentare ad esempio uno dei tipici errori che commette un bambino con la dislessia ovvero l'inversione del grafema diverso è eseguire ad esempio tutti i livelli fino al livello 3 poi cominciare a trovare difficoltà nella scrittura scrivere le parole che hai trovato e quindi cercare di valutare a quali livello si interrompe la prestazione didattica è già una misura implicita del funzionamento cognitivo dell'alunno che abbiamo di fronte prima parlavamo di ridondanza cioè il fatto che le informazioni possano essere ripetute all'interno delle diverse pagine per diventare quella guida narrante che ci permette un riorientamento quasi implicito ma non solo da un punto di vista grafico iconografico ma anche da un punto di vista strategico osservate in questi due esempi come la struttura della lettera m viene riproposta con la lettera l la struttura con la della lettera n viene riproposta con la lettera se ovvero come se esistesse una sorta di matrice strutturale all'interno della quale degli elementi strategici vengono ad essere implicitamente presentati qui parliamo di costruzione di parole all'interno di uno spazio dedicato che ricorda molto la quadrettatura dei testi qui semplicemente il riconoscimento percettivo l'iconografia in entrambi gli slot presenta una facilitazione perché il riconoscimento è molto più facile della rievocazione e se notate la quadrettatura viene riproposta e quindi è come una matrice ridondante che non vuol dire aver fatto un esercizio coppia incolla e poi declinato per tutte le lettere dell'alfabeto ad esempio ma dare la continuità processuale e percettiva che permette l'acquisizione implicita di alcune conoscenze senza necessariamente doverle ripetere e riprodurre costantemente e quindi cognitivamente diventa uno strumento se volete passare mettermi è estremamente duttile perché è rivolto a tutta la classe quindi non solo a quelle situazioni di difficoltà ma a tutti i nostri alunni che presentano anche ad esempio eccellenze quindi che molto facilmente riescono a superare livelli cognitivi per riprodurre prestazioni di alto livello ma perché questo perché tutti gli alunni possono usufruire di che cosa dei diversi canali sensoriali e cognitivi che vengono proposti all'interno delle pagine come quello verbale quello deduttivo rappresentazionale che vengono ad essere contenuti all'interno delle pagine con un contesto che facilita i livelli di acquisizione anche attraverso modalità diverse tutti voi sapete come sia estremamente importante stimolare il cosiddetto pensiero divergente ovvero non dare sempre solo un'unica soluzione ma dare anche la possibilità di costruire soluzioni in campo aperto perché questo diventa un elemento costruttivo di abilità cognitiva e quindi le informazioni non ripetitive nel senso riprodotte serialmente diventano un'acquisizione una comprensione più generalizzata più ampia e questa modalità ovviamente serve per far emergere stabilire e valutare e fortificare e rinforzare le abilità che vengono presentate perché è importante dal nostro punto di vista questo strumento per l'insegnante perché esistono delle indicazioni chiare pragmatiche guardate lo dico contro qualsiasi tipo di pregiudizio è molto più facile leggerlo che non ascoltare il mio webinar di 40 minuti che cerca di raccontarvi quello che c'è dentro perché i testi che abbiamo costruito hanno avuto una fase di sperimentazione l'impatto che i nostri bambini nostri alunni hanno avuto è stato immediato è stato percettivo perché senza sovrastrutture hanno identificato questa chiave narrante ricordate sempre come dal nostro punto di vista sia importante condividere con voi delle strategie che voi stessi nei tutti i corsi di formazione che ad esempio io ho potuto seguire grazie sempre mondadori mi hanno ridato come materiale pragmatico di ragionamento che deve servire a costruire quegli strumenti di facile immediata lettura che possono essere applicati al corpo classe che possono dare valutazioni immediate per poter costruire un percorso funzionale ed ecco come abbiamo cercato di tradurlo ad esempio nella costruzione di pagine che presentano identificazioni molto chiare da un punto di vista grafico e colorimetrico che ci dicono subito a che punto della valutazione come didattica siamo come ad ognuno di questi elementi corrisponde a un colore che le identifica che viene riprodotto all'interno dell'intera pagina ma ancor di più ogni esercizio viene strutturato secondo una matrice strategica che parte dall'identificazione dell'elemento didattico che noi stiamo analizzando riproposto in modalità diverse e i suggerimenti diventano inevitabilmente espliciti ed espliciti ma all'interno dello stesso della stessa pagina possiamo trovare anche informazioni di tipo strategico che possono stimolare acquisizione dei contenuti anche attraverso stili cognitivi complementari o come dicevo poc'anzi divergenti metti in ordine suoni riscrivi le parole oppure osserve disegni e scrive le parole nella colonna da suono corretto se notate la ridondanza di elementi uguali quello che cambia la strategia e lo stile cognitivo proposto ancor di più per l'insegnante noi abbiamo inserito a pie pagina tutte quelle informazioni che vi dicono esattamente quale prerequisito didattico e quale funzione cognitiva viene esplorata all'interno della pagina ma ancor di più quali sono gli elementi gli obiettivi didattici che in questa pagina noi abbiamo voluto esplorare e indagare in modo che noi abbiamo immediatamente l'immagine di ciò che stiamo valutando e di che cosa o quale prestazione dovremmo attenderci dal nostro alunno di fronte a questa percezione quando si valuta lo sviluppo non solo cognitivo ma anche didattico nella crescita delle acquisizioni di competenze inevitabilmente ma appaiono dei nodi cognitivi didattici che sono fondamentali ovvero l'acquisizione la distinzione dei suoni delle vocali rispetto alle consonanti la costruzione delle sillabe la struttura monosillabica bisillabica trisillabica sono dei processi lineari che prevedono di nodi fondamentali senza i quali a cascata tutto quello che ne consegue non potrebbe avere un senso quindi in guida che cosa abbiamo pensato abbiamo pensato di accompagnare il docente nell'analisi nella comprensione nella valutazione di quelli gli esercizi svolti su cognitivamente individuare delle azioni da utilizzare per poter aiutare l'alunno che presenta delle difficoltà e come abbiamo pensato di farlo beh attraverso questo modello che ho costruito insieme ai miei collaboratori che vi dice che dato un argomento didattico ovviamente per poterlo svolgere voi dovete avere un prerequisito didattico e cognitivo questi due prerequisiti devono essere fondamentali per realizzare l'obiettivo didattico attraverso un'attività didattica specifica che deve essere verificata nel momento in cui il nostro alunno ha una verifica positiva quindi è riuscito a superare tutti i livelli il processo lo possiamo dare come consolidato acquisito e quindi si passa a un livello successivo molto spesso e i best ce lo insegnano in realtà i nostri alunni presentano delle alterazioni quindi la domanda è che cosa faccio come posso aiutare il mio alunno l'abbiamo chiamata rivalutazione strategica che poi diventa in guida la didattica dell'errore perché invece che riproporre costantemente lo stesso processo andiamo a fare un'analisi di come intervenire rispetto agli errori che i nostri alunni producono ovvero il nostro alunno ha i prerequisiti adeguati se no devo andare a potenziare questo elemento prima di affrontare tutti gli altri altrimenti avrò uno spreco di tempo di lavoro se invece per il requisito adeguato forse rimodula l'obiettivo è stato espresso in un modo non chiaro il mio alunno non ha capito esattamente attraverso la sul suo stile cognitivo e la sua modalità cognitiva quale era l'obiettivo didattico espresso quindi glielo devo diversificare cioè devo produrre un materiale che possa secondare o ricalcare lo stile cognitivo che l'alunno probabilmente possiede e se anche lo stile cognitivo è stato adeguato forse il tipo di verifica che ho utilizzato non è stata adeguata alla comprensione della classe dell'alunno anche qui molto più facile farlo che non dirlo perché perché il testo che analizza la prestazione dell'alunno vi dice già attraverso l'analisi e la valutazione strategica dell'errore qual è il nodo didattico nel quale probabilmente abbiamo un avuto una caduta e attraverso questo nodo didattico vi è un richiamo allo stile cognitivo che deve essere rinforzato valutato attraverso degli strumenti adattabili a situazioni diverse e quindi in guida troverete forse il fiore all'occhiello di questa operazione c'è la rivalutazione strategica dell'errore che cosa fa la rivalutazione strategica dell'errore permette al docente di fare una valutazione personalizzata dell'alunno in base al livello raggiunto dall'alunno in sé quindi noi ci troviamo di fronte passate il termine a una cartina torna sole che sul quaderno ci permette di vedere la prestazione del nostro alunno e in guida attraverso la rivalutazione strategica dell'errore osservare qual è l'elemento che non ha funzionato e come migliorarlo perché per ognuno dei nodi cognitivi noi abbiamo prodotto delle pagine che trovate in guida che vi accompagneranno a fare questo tipo di analisi e comincio a farvi vedere il rimodula ovvero l'obiettivo didattico viene presentato attraverso modalità differenti che permettono una facilitazione di sedimentazione del contenuto didattico questa è la pagina quindi lettere o omofone ma non omografe vedete la ridondanza di informazioni la colorimetria le varie cose che vengono esposte a livello verticale come i livelli didattici sul nodo didattico fondamentale in caso in cui il nostro alunno avesse un commesso un errore o non è riuscito a svolgere questa pagina rimodulare troverete questa pagina che identifica viene richiamata all'interno del quaderno identifica che cosa facciamo la rimodulazione notate che vengono presentati anche qui elementi fondamentali perché l'obiettivo è quello di rimodulare tutto l'aspetto presentato in pagina diverso è il diversifica ovvero vengono presentati i materiali attraverso stili cognitivi diversi offrendo strategie che implichino soluzioni didattiche diverse ma complementari in questo caso potete vedere ad esempio che la strategia del diversifica qui ripropone più una valutazione di ordine iconografico viene chiesto all'alunno di disegnare un oggetto con il nome che inizia con i suoni descritti sotto quindi vedete che la diversificazione passa attraverso un canale fonologico e viso percettivo dove il soggetto il nostro alunno diventa attivo nella costruzione della esecuzione di questa pagina la stessa cosa la possiamo notare sotto quando diciamo collega le parole alle immagini che hanno il suono iniziale simile quindi viene riproposto sempre lo stile cognitivo uditivo e il riconoscimento che come sappiamo molto più facile della rievocazione ovvero collegare parola a suono la personalizzazione determina definisce che cosa sicuramente tutta una parte di valutazione è la vera e propria verifica che viene prodotta in quattro prove queste quattro prove presenteranno quattro gradienti diversi e sono la valutazione complessiva alla conclusione di tutti i processi di potenza rimodula diversifica che vengono presentati in guida ma guardiamo bene che cosa vuol dire personalizzare notate che il primo compito della personalizzazione presenta quella valutazione percettiva se vi ricordate quando abbiamo guardato la pagina dedicata alla m dove viene chiesto di riproporre una sequenza nella quale il soggetto deve inserire gli elementi mancani qui se notate nella prova non viene detto lettere non viene detto leggi non vengono usate terminologie specifiche dell'acquisizione di ordine di attica viene semplicemente chiesto di valutare questa sequenza di apporvi degli elementi corretti se vi ricordate nella tovaglia di prima nove box dove ne mancava uno e quel tipo di box doveva essere individuato attraverso una valutazione strategica noi qui ripresentiamo lo stesso criterio cognitivo ovvero questi elementi hanno una loro sequenza che viene riprodotta e il bambino deve semplicemente inserire l'elemento mancante rispetto alla sequenza questa prova è sicuramente molto più semplice della seconda prova che viene denominata b ovvero serve disegni cerca di arancione se il suo nome contiene e di verde se contiene qui viene chiesto un passaggio in più quindi individuare attraverso l'utilizzo dei suoni la prova c è sicuramente molto più complessa perché dalle lettere passiamo alle sillabe fino ad arrivare a un vero e proprio completamento di parole rispetto al contesto frase dove però l'iconografia rimane come queuing percettivo perché personalizza diventa il fiore dell'occhiello perché ovviamente in questa pagina noi ripercorriamo tutti quei passaggi dal prerequisito didattico al prerequisito cognitivo fino al vero e proprio analisi dell'obiettivo didattico che ci permettono di capire se tutte le azioni che noi abbiamo posto in essere per correggere valutare gli errori prodotti nella pagina del quaderno in questo caso hanno portato a un risultato positivo cioè il nostro soggetto ha trovato beneficio e come facciamo a dirlo attraverso questo che è la valutazione analisi strategica dell'errore ovvero in base al personalizza in guida troverete delle schede che vi dicono per ogni singola prova colorometricamente quali sono i punteggi che gli alunni devono ottenere per poter considerare la prova effettuata per realizzare queste schede abbiamo usato il criterio statistico del rango percentile cioè ci siamo chiesti quando possiamo dire che un alunno ha effettivamente colto quel nodo cognitivo e quel nodo didattico sicuramente la statistica ci insegna quando la sua prestazione è superiore al 75esimo percentile e quindi se nella prova a il soggetto deve inserire correttamente cinque elementi il massimo della prova sarà 5 il minimo della prova sarà 0 e quindi nella valutazione in percentuale se uno tiene un punto vuol dire che sotto il 25esimo percentile da due a tre punti tra il 25esimo e 75esimo percentile come potete vedere da questa scala colorimetrica superiore a 4 e 75esimo percentile oltre ma non solo questo diventa uno strumento di vari di verifica di valutazione in sé ma ancor di più da direttamente alle insegnanti delle indicazioni su che cosa quella percentuale significa cioè ovvero se il mio alunno nella prova ha ottenuto da 0 25 per cento valutare difficoltà nella conversione grafema fonema attenzione alla memoria breve termine ovvero abbiamo inserito una calibrazione adeguata di quello che deve essere utilizzato fatto per poter migliorare mentre vedete che dal 25esimo al 75esimo percentile diamo delle altre indicazioni cioè distinguere le lettere fonologicamente simili e mantenere una sequenza corretta come potete osservare gli elementi vengono riproposti per tutti i livelli della prova personalizza prova prova b prova c e prova d e avete una colorimetria adeguata come posso aiutarvi a comprendere la funzionalità pratica di questo momento vi faccio vedere una semplicissima simulazione effettuata in una delle classi test realizzare questo elemento cognitivamente e guardate abbiamo somministrato la parola scusate la pagina e che cosa abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto che gli alunni che sono qui rappresentati si distribuiscono secondo queste fasce colorimetriche rispetto ai ranghi percentili cioè vedete che il primo alunno tiene un punteggio pari a 66 per cento il secondo 72 via dicendo con questa distribuzione applicando tutti i mezzi correttivi di potenziamento di rimodulazione che vi ho fatto vedere in un ritest cioè dopo aver fatto la rimodulazione la diversificazione eccetera abbiamo risomministrato e abbiamo ottenuto questi risultati ovvero ognuno dei nostri alunni ha avuto una performance diversa rispetto alla precedente c'è chi ha avuto un miglioramento rimanendo all'interno della stessa fascia percentile c'è chi ha avuto un lieve calo e potete vedere come la distribuzione dei nostri soggetti che cosa abbiamo fatto abbiamo riproposto su del materiale da ricostruire rispetto a materiale didattico utilizzato dall'insegnante per poi fare una terza rivalutazione che cosa abbiamo notato che alcuni hanno mantenuto un trend di crescita perdona mentre alcuni si sono stabilizzati secondo dei punteggi oppure stabilizzati secondo un miglioramento ma la cosa più semplice da farvi vedere che cos'è è fare una prova di sottrazione ovvero abbiamo preso i punteggi della prima somministrazione li abbiamo somministrati con la seconda sono gli abbiamo sottrati alla seconda somministrazione e poi abbiamo sottratto la seconda somministrazione alla terza ci abbiamo fatto quello che statistica si chiama la procedura a delta ovvero vedere quanti sono i livelli di scostamento e la cosa interessante è questa che i nostri ragazzi hanno avuto dei profili completamente diversi rispetto ai test cioè possiamo individuare come dei soggetti nella sottrazione tra le prove hanno avuto un miglioramento quasi di 18 punti percentuali mentre ci sono alcuni soggetti che partivano da una deviazione molto più bassa rispetto al gruppo classico hanno avuto lo stesso tipo di miglioramento soggetti che sono rimasti molto più stabili e soggetti che invece hanno avuto un peggioramento che cosa vuol dire vuol dire che cognitivamente ci presenta uno strumento davvero semplice da utilizzare che attraverso una banalissima matrice excel ci può far vedere quanto il nostro intervento è stato efficace sul gruppo classe o quanto il nostro intervento è stato efficace anche sul singolo come lo vorrei applicare questo tipo di valutazione semplicemente pensate alla valutazione test che la normativa ci chiede nei confronti dei piani didattici personalizzati rispetto ai soggetti con i bisogni educativi speciali noi qui abbiamo la possibilità somministrando lo stesso strumento a tutta la classe di individuare se e come queste misure permettono ai nostri alunni di avere un miglioramento del proprio profilo e quindi ci rimane da valutare che cosa quali sono le parole chiave che identificano cognitivamente sicuramente andiamo analizzare le competenze cognitive e queste competenze cognitive devono avere una didattica finalizzata e una valutazione strategica dell'errore perché questa valutazione ci permette di costruire un intervento e questo intervento può essere utilizzato attraverso l'analisi dei diversi livelli che all'interno delle pagine noi presentiamo perché perché all'interno di queste strutture a livelli noi abbiamo delle metodologie ormai definite che sono quella verticale i diversi livelli di esercizio proposti anche l'orizzontale ovvero la ridondanza di informazioni prodotte nelle diverse pagine in modo da costruire così un testo che abbia una strategia e una struttura narrante perché perché attraverso questa narrazione noi pensiamo ma ne siamo certi di poter facilitare la generalizzazione delle competenze ovvero di arricchire quel patrimonio conoscitivo strategico che ricade a sua volta nelle competenze cognitive e quindi ripermettere una rivalutazione se voi cercate di osservare questo processo di fatto è un processo a feedback ovvero ci permette di ricostruire tutta una costruzione non solo lineare ma proprio logica di quelli che sono quei cambiamenti cognitivi funzionali didattici che permettono all'insegnante di avere sempre costantemente la possibilità di intervenire attraverso un processo di valutazione efficace e l'alunno di acquisire competenze in una maniera implicita ed esplicita che poi venga ad essere valutata anche da lui come un mezzo di arricchimento personale didattico ora lascerei un po di tempo e di spazio alle vostre domande alle vostre curiosità che spero abbia questa presentazione suggerito e adesso vi leggerò alcune di queste domande domanda abilità o quale conoscenze beh sicuramente direi di no nel senso che noi abbiamo delle abilità che non necessariamente possono essere valutate ed espresse attraverso delle conoscenze vere e proprie ci sono degli studi ormai noti dove si osservano bambini che soffrono di dislessia che hanno una ipo funzionamento della parte sinistra del cervello legata appunto la conversione grafema fonema l'automatizzazione del linguaggio posti di fronte ad un altro compito hanno un'iperattivazione dell'emisfero controlaterale c'è quello destro che quello viso percettivo quindi loro non hanno una capacità linguistica diciamo così adeguata hanno un'abilità viso percettiva sicuramente molto più ampia quindi il binomio abilità competenze credo che ormai debba lasciare spazio una visione più ampia e più articolata valutare le competenze non è discriminante visto che ognuno porta con sé un bagaglio culturale diverso assolutamente di sì sono d'accordo su questa valutazione infatti il nostro tentativo non è quello di valutare le competenze ma più di altri più che altro stimolare l'abilità proprio perché ognuno di noi viene deriva da un proprio bagaglio culturale diverso il nostro tentativo è quello attraverso uno strumento molto fruibile che non ha dei vincoli anche culturali predeterminati dare la possibilità di esprimere tutte quelle che possono essere le abilità e quindi ognuno proveniente da culture diverse ma anche da ambiti sociali diversi riuscire a manifestare quello che è la propria predisposizione a proposito di questo vorrei richiamare il fatto che è noto ormai quello che viene definito un po l'impoverimento lessicale delle generazioni dei nostri alunni in realtà oltre ad avere un impoverimento lessicale noi abbiamo e sono note gli articoli di letteratura un potenziamento delle capacità di ordine viso percettivo e viso costruttivo quindi che cosa vuol dire sganciamoci dal concetto di una diversità come bagaglio andiamo invece a focalizzare quelle che possono essere le abilità condivise le cosiddette abilità crossing che possono poi facilitare sicuramente fattori di apprendimento adeguato un'altra domanda fino a che punto è giusto considerare il cervello di un alunno come un armadio contenitore beh sicuramente è una metafora che può e presenta dei limiti nel senso che non è sicuramente il cervello dei nostri alunni una struttura statica ma è una struttura dinamica e non solo ma è non solo da deposito ma è anche innovativa nel senso che le nostre aree associative prendono tutti gli elementi che noi inseriamo in quell'armadio li trasformano costruendo anche oggetti che noi non abbiamo inserito l'idea di proporre questa visione va al di là del inserire elementi all'interno dell'armadio ma è rendere i nostri alunni consapevoli di come utilizzare quegli elementi come costruirne degli altri come rendere esplicite le proprie abilità senza dei vincoli prestrutturati purtroppo molto spesso ancora oggi molte delle azioni didattiche sono vincolate al si è sempre fatto così quindi si spiega così si deve fare così e devo dire che lo sviluppo delle neuroscienze non solo contraddice questa prospettiva ma ci chiede di trovarne una completamente diversa questo esposto è valido per ogni ordine scolastico per qualsiasi disciplina allora per rispondere a questa domanda il materiale che vi ho fatto vedere è proposto per la primaria per la classe prima seconda e terza per matematica e per italiano perché la nostra produzione per oggi ha raggiunto questo obiettivo mi permetto di dire che in realtà non è così o meglio che il modello io credo sia applicabile anche a ordini scolastici superiori ea diversi materiali mi viene in mente storia geografia piuttosto che arte pensate al concetto della mappa concettuale la mappa concettuale una destrutturazione del testo che viene riproposta con una sua logica la mappa concettuale presenta grosso modo quello che noi abbiamo cercato di amplificare incognitivamente quindi credo che possa essere limitativo pensare che questo elemento debba necessariamente essere ridotto solo ai primi anni della scuola primaria ma che possa essere estendibile sicuramente il concetto di plasticità neurale che è particolarmente evidente nei primi cinque anni quindi nella scuola primaria ci chiede di prestare particolare attenzione perché più noi riusciamo a strutturare a solidificare quella capacità strategica nei primi anni scolastici sicuramente negli anni a seguire può diventare patrimonio cognitivamente tiene conto dei vari stili cognitivi la risposta è assolutamente sì i vari stili cognitivi vengono proposti trasversalmente in tutte le pagine c'è un chiaro tentativo di riproporre stile cognitivi diversi all'interno delle pagine nel tentativo di permettere al soggetto che ha quello stile cognitivo di individuare immediatamente quegli esercizi che sono consoni al proprio stile cognitivo però non sono esclusivi che cosa vuol dire che se noi avessimo costruito una pagina diversificandola per stili cognitivi diversi semplicemente avremmo incapsulato lo stile cognitivo in realtà noi vorremmo la contaminazione contaminazione che cosa vuol dire che io all'interno della pagina individuo quel tipo di esercizio consono per il mio stile cognitivo ma subito prima subito dopo ho un altro esercizio viene proposto con uno stile cognitivo diciamo così parallelo alternativo perché attraverso questo tipo di contaminazione gli stili cognitivi possono diventare sempre più diversificati e quindi pur mantenendo uno stile cognitivo cardine avere delle acquisizioni di stili quanti paralleli vuol dire avere un maggior livello di generalizzazione e quindi di capacità credo che ci sia ancora spazio per una domanda quale consiglio per stimolare le abilità nei bambini stranieri sicuramente è il primo consiglio non passare attraverso una valutazione di tipo verbale ma usare situazioni di tipo esperienziale iconografico permettere di costruire dei modelli di integrazione di conoscenze che vadano al di là dell'aspetto diciamo anche culturale o verbale o linguistico ma che permettono ad esempio di stimolare di far valutare gli aspetti di tipo logico gli aspetti di analisi gli aspetti di problem solving anche molto pratici e concreti nell'everyday life mi verrebbe da dire perché questo è un credo uno dei sistemi vincenti non solo per far sentire gli studenti stranieri più facilmente integrati nelle nostre aule ma per vedere l'espressione delle loro abilità al di là delle barriere verbali socio culturali socio economiche ad esempio che identificano ad esempio una categoria base credo che il nostro tempo ormai sia giunto alla fine mi rimane abbiate pazienza mi rimane di suggerirvi il proseguimento dei nostri appuntamenti webinar attraverso un nuovo webinar che verrà fatto da un collega che si intitola io robot coding unplugged e verrà presentato lunedì 16 aprile alle ore 17 è uno di quattro momenti che parlano di questo elemento estremamente interessante di importante quello del coding quindi vi suggerisco di poter proseguire la visione con noi attraverso questo webinar vi ringrazio ringrazio della vostra attenzione della vostra presenza delle vostre domande che ripeto rappresentano sempre un patrimonio di acquisizione per tutti noi spero di risentirci presto vi ringrazio al prossimo appuntamento ringrazio online ringrazio con Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.